ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio facciamo il riassunto delle puntate precedenti allora finora nel primo episodio vi ho mostrato la mia attrezzatura che in questo caso per tutto il primo mese sarà solo lo smartphone questo perché perché voglio dimostrarvi che anche avendo poco budget anche insomma partendo praticamente come dice il nostro titolo da zero si può fare qualcosa di carino vi ho fatto vedere come si può girare un video con lo smartphone e poi come si può si può scattare qualche foto con lo smartphone adesso però mi tocca dire anche i contro di lavorare con uno smartphone innanzitutto non posso diciamo fare cambi di inquadratura perché avendo una sola camera non ne posso fare tagli seconda cosa sono legato alla luce o meglio sì come tutte le fotografie siamo tutti legati alla luce ma in questo caso avendo un sensore molto piccolo più cala la luce e più arriva rumori in camera e quindi anche a lavorare in un ambiente chiuso può dare problemi cambiando discorso che cosa vedremo oggi oggi è una puntata abbastanza strana perché in realtà non vi faccio vedere niente di particolarmente tecnico anzi cambiamo completamente argomento oggi parliamo di allenamento e si 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 oggi si parla di fisico da dove nasce questa cosa questa cosa nasce da un paio di amici e mi hanno fatto notare che non sempre uno riesce ad andare in palestra e che l'allenamento è necessario spiego meglio allora ho un amico che facendo un lavoro impegnativo non riesce a trovare il tempo materiale per andare in palestra perché giustamente mentre va mentre torna mentre arriva al lavoro diventa un problema mentre un'amica a cui ho prestato una delle mie macchine fotografiche è riuscita a fare tutte quante foto mosse perché perché sono un cretino ti ho dato in mano un 70 200 che effettivamente non è proprio leggero ma da tutta la mano che tremava e quindi non è riuscita a fare neanche una foto decente nel senso che ce n'è qualcuna ma sarebbe stato meglio avere le braccia un po più forti perciò oggi risponderemo alla domanda come si comincia un allenamento da zero mettiamo caso che voi nella vostra vita siete diventati cintura nera di divano e come cominciate iniziamo da poco ok iniziamo a vedere un po con allenamento base questo vuol dire che non ci saranno esercizi veri e propri ma solamente dei suggerimenti vedremo diciamo la come si dice la preparazione poi a fare attività fisica ok ci siamo allora lo scopo di questa cosa non è farvi diventare dei palestrati super fisicati e in forma per la prova costume questa cosa serve semplicemente a darvi un mimo di tono muscolare per fare meglio quello che è la quello che fate nella vita di ogni giorno può essere fare il busto della spesa alzare una fotocamera per caso di qualcuno specifico o comunque insomma avere un minimo di forza per fare quello di cui avete bisogno vediamo un primo esercizio molto molto base il primo esercizio base su cui andiamo a lavorare è l'esercizio della plank come si va a fare una plank in questo modo allora semplicemente andiamo a lavorare sulle braccia e di conseguenza mantenendo la posizione anche su tutto il resto del corpo polsi alla stessa altezza delle spalle stendiamo prima la gamba ok quando ci sentiamo sicuri stendiamo anche la seconda e cerchiamo di rimanere più tempo rimaniamo e iniziamo a sentire la fatica va bene? e questo è un primo esercizio se non riuscite a farlo in questo modo ginocchia carico le due ginocchia leggete le spalle in basso e rimanete ok? ora partendo da questa posizione se vi sentite un poco più coraggiosi e volete un po' di forza nelle braccia provate a fare dei piegamenti ok? nel caso in cui non riuscite a fare un piegamento completo arrivate come la sentite tornate su arrivate dove la sentite se siete ancora più coraggiosi la mestese posizione corretta polsi e spalle allineate e di su ok? ora con questi esercizi esistono infinite variazioni quindi a seconda del livello che avete di allenamento potete fare diverse variazioni un giochino che invece possiamo fare insieme in questo caso con questi esercizi è solamente per le braccia poi vedremo più là qualche altro esercizio e contare da 1 a 4 e da 4 a 1 proviamo allora partiamo 4 1 2 3 4 5 rilasso le spalle adesso ne facciamo 3 3 2 1 rilasso mantendo l'alignamento facciamo 2 rilasso le spalle e facciamo 1 rilasso le spalle prendo una posizione comoda rilasso e abbiamo fatto allora avendo una base di allenamento praticamente nulla il mio consiglio è dovete fare 30 secondi barra 1 minuto di plank e questo esercizio partendo da 4 o da 5 poi si possono aggiungere tanti altri esercizi tante altre cose perché l'allenamento si può fare in tanti modi diciamo che questo è quello che serve per avere delle basi ora spero che questo vi sia d'aiuto insomma per vivere meglio non tanto come ho detto per tornare in forma poi se vi appassionate e volete diventare dei propri campioni insomma ci sono le palestre vicino casa questo lo potete fare la mattina lo potete fare la sera e ogni volta che volete ne avete bisogno nel frattempo oggi è sabato dovrebbe essere 4 gennaio quindi mi tocca ancora tagliarmi la barba prepararmi ad uscire come ci vediamo nel prossimo episodio e dovrebbe essere domani e dovrebbe essere domani qui è domani Grazie a tutti